su fifa c'è no sul tablet non su android benzema prima carta tutte le mie carte messi nei mar guardate un po benzema manca solo messi e manca un altro calagnu che si chiama vabbè andiamo avanti guarin andiamo avanti la lana questo video durerà poco durerà 3 minuti massimo 4 procediamo non lido andiamo un po' di luce non saldi procediamo ne credo procediamo non lido ancora non lido non lido ancora i lo a ora che no avanti promis promisen avanti ok con le mani no erminico erminico allora Junovic andiamo avanti faccio un po' più avanti faccio 4 minuti andiamo andiamo avanti fare un sottovoce che sono già lì le 11 andiamo avanti oh guard andiamo avanti dopo c'è l'ultimo pacchetto che basta incrociamo per l'ultimo pacchetto che merda dai un altro sorridita raga oh ebra l'ultimo e facciamo 5 minuti e basta su definitiva ok matip andiamo avanti andiamo avanti questo video con questo l'ultimo pacchetto del video vi dico lasciate like spollicciate uguale commentate e ditemi cosa volete ancora a un prossimo video bella a un prossimo video a un prossimo video